Marinella Senatore è un artista. Ha studiato violino, cinema, danza, teatro e arte e riesce a mescolarle con un linguaggio unico, originale e contemporaneo. Le sue opere nascono dalla tradizione e dalla cultura popolare, ma sono luce e straordinaria avanguardia. Marinella Senatore è una cosmopolita, vive tra l'America, Londra, Parigi e Roma e ama i colori. Lei ha avuto una formazione che ha esplorato moltissime discipline e moltissimi mondi, danza classica, musica, fotografia, cinema e naturalmente arte contemporanea. Come ha combinato tutto questo? Come è riuscita a metterlo insieme? Avevo molto chiaro il contesto in cui volevo lavorare, che era appunto quello dell'arte contemporanea. Per cui studiare cinema, la Scuola Nazionale, Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, musica classica, il Conservatorio e poi ovviamente arte sia in Italia che all'estero, faceva tutto parte di un bagaglio di competenze che volevo acquisire proprio per la mia professione. Il filo conduttore di tutta la mia ricerca è la partecipazione, sia come metodologia di lavoro, quindi fare le cose insieme agli altri, coinvolgere le persone, non come spettatori passivi ma attivi all'interno della creazione, ma è anche il focus della mia ricerca. Quante sono le persone che lei è coinvolta in questa ideale community? Il numero è incredibile perché sono oltre 6 milioni e mezzo in più di 23 paesi. E sono tutti artisti? No, assolutamente no. Il 99% delle persone sono assolutamente fuori proprio dall'ambito addirittura culturale molte volte, alla primissima esperienza sia di creazione condivisa ma anche di cultura e di arte contemporanea molte volte. C'è qualche artista donna che l'ha affascinata in particolar modo? Sicuramente Anna Mendieta, però in realtà anche tante registe, scrittrici, musiciste, secondo me non è mai abbastanza parlare di donne e di quello che hanno fatto, anche pensatrici, teoriche, ma credo che la disuguaglianza è ancora un fatto oggettivo, addirittura nel pagamento tra gli artisti. A parità di disegno, a parità di pittura, un maschio viene pagato il 15% di più. L'arte non è esente da asimmetrie sociali purtroppo. Una cosa importante, forse la prima che mi ha affascinato del suo lavoro, è il lavoro che lei fa sulla luce. Ecco, come è partita questa ispirazione primaria? In realtà dalla pittura, dalla storia dell'arte, che è una delle mie grandissime passioni, la pittura antica, la pittura veneta per esempio, laddove i valori formali e luminosi sono stati determinanti per la narrazione. Da lì avevo capito subito che la poesia insita nella narrazione che fa la luce era una cosa che mi interessava. Poi ho voluto studiare appunto alla scuola di cinema, non regia, ma direzione della fotografia, con Giuseppe Rotunno, quindi un grande direttore della fotografia, nominato premio Oscar, che aveva illuminato capolavori come Amarcord, ma anche Rocco e i suoi fratelli. Ecco, sempre di più capivo che quello era un elemento chiave della mia ispirazione e della mia formazione, che mi risultava anche abbastanza facile in realtà. Per esempio si pensi all'illuminare del sud Italia, tradizione con la quale io lavoro molto, addirittura anche a stretto contatto con gli artigiani salentini. Nel 2020 Maria Grazia Chiuri per Dior l'ha chiamata a fare proprio una luminaria per la sfilata di Lecce. Com'è stato l'incontro col mondo della moda? Mi piace tantissimo il potenziale comunicativo del mondo della moda e poi credo che arte e moda si sono relazionati così bene in tantissimi momenti della storia, di entrambi i percorsi, per cui per me è stato fantastico. Un'altra cosa che lei utilizza tantissimo sono le scritte. Se dovesse identificare una citazione piuttosto che un'espressione di qui al suo prossimo progetto, quale sceglierebbe? Al momento We Rise by Lifting Others, ci eleviamo sollevando gli altri.